Gentili telespettatori, buona giornata. Viene aperto un precedimento sulla di Cesare da parte dell'Università La Sapienza di Roma. Questa docente, volto noto televisivo, sempre ospite tutti martedì da Floris a di martedì, è praticamente uno di quei personaggi che Floris in vita ogni settimana perché servono alla causa del programma per attaccare il governo attuale. Beh, questa professoressa della Sapienza ha fatto delle dichiarazioni incredibili sui social, dimostrandosi dispiaciuta per la scomparsa della Compagna Luna. La Compagna Luna è una brigatista che ha partecipato al sequestro di Aldomoro e all'uccisione di un'altra persona. Ecco, che un docente universitario, nella massima casa di studi della Sapienza, proprio un'università che si chiama La Sapienza, che dovrebbe fare rima con intelligenza, con cultura, con democrazia, quindi la massima casa di studi della Sapienza, ha un docente che fa un messaggio, come dire, ci spiace per la scomparsa, mi duole la scomparsa della Compagna Luna, di cui condividevo l'ideologia, però abbiamo preso poi strade diverse. Insomma, un post che ha sconcertato anche, non solo, la rettrice dell'università, ma anche la responsabile della divisione di cui fa capo questa di Cesare, quindi quella, la divisione, credo, di lettere e filosofia, o filosofia e lettere, comunque. La Sapienza avvia una valutazione sulle dichiarazioni della professoressa che aveva elogiato la brigatista Barbara Balzeriani, un iter avviato in accordo con il ministro Bernini. Secondo me, quando un docente che ha la responsabilità enorme della formazione, delle menti, degli universitari, se ne viene fuori con una roba del genere, a mio avviso, è mia opinione personale, se io fossi responsabile di una università, incaricherei l'ufficio del personale, dice guarda, manda una raccomandata con ricevuta di ritorno alla professoressa, dove c'è scritto che il rapporto di collaborazione finisce con decorrenza immediata, per, poi ci saranno delle motivazioni, delle clausole, arrivederci e senza neanche grazie. Licenziamento in tronco per giusta causa. E poi fai tutti i ricorsi che vuoi al TAR, al Cip e Ciop, al Trick e Track, fai tutti i ricorsi che vuoi, ma io, responsabile di un'università, che uno faccia un elogio a un brigatista o a un gerarca della seconda guerra mondiale, sarebbe la stessa identica cosa, quindi se tu fiancheggi estremisti o terroristi di destra o di sinistra, a casa e anche velocemente, ecco, questa è la mia opinione. I vertici dell'università alla sapienza sono rimasti a bocca aperta, a bocca aperta. Questo poi vi fa capire anche in televisione, fanno i buoni buonisti, la filosofa dell'università, la professoressa che è lì che pontifica contro i cattivi che ci stanno governando, e poi ti fanno il posto dove elogiano una terrorista rossa. Avete capito che dietro le quinte di queste persone ci sono dei pensieri? Non so, io se fossi anche in Floris non la inviterei più. Poi l'altra sera non lo so se questa professoressa era presente nella trasmissione di due giorni fa, di martedì, perché ho visto dei spezzoni ma non so se è stata più invitata. Io la farei anche dalla televisione. Via! Dice così. Ho visto lo sconcerto espresso dalla rettrice anche alla luce della storia dell'università capitolina che ha pagato un prezzo molto alto durante la tristissima stagione del terrorismo e ha giudicato pericolose le parole della professoressa di Cesare e inconciliabili con la responsabilità all'insegnamento. Sì, in un clima come quello che c'è già adesso, di cui parlavamo nei video precedenti dove la Meloni ha chiaramente detto ai sindacati di polizia, carabinieri e guardie di finanza che c'è un clima brutto che sembra farci ripiombare in decenni passati, un clima ovviamente creato da una certa area politica che è rancorosa, livorosa e aggressiva verso questo governo all'inverosimile perché non sanno più come tirar giù questo governo Allora vengono fuori anche queste esternazioni che vi fanno capire la pericolosità la pericolosità di affermazioni, ideologie e poca, poca, poca democrazia che c'è da quelle parti lì. Ovviamente, a mio avviso, una persona che scrive queste cose non è compatibile con l'insegnamento ma neanche all'asilo, ci mancherebbe altro neanche né all'asilo né alle elementari da nessuna figuriamoci nella massima casa di studio che è l'università una delle più prestigiose al mondo come la sapienza quindi spero che questo non finisca come al solito in un nulla di fatto perché quando parliamo di personalità di sinistra finisce sempre tutto a tarallucci e vino cioè finisce se ne parla per due giorni e poi dice ma cos'è successo? Niente, no? Caso eclatante, vi ricordate Palamara che complottava contro un ministro regolarmente eletto Palamara che complottava contro gli organi centrali dello Stato sarebbe dovuto essere arrestato immediatamente e processato per direttissima, per cospirazione contro gli organi centrali dello Stato cos'è successo? Palamara ha scritto un libro con Sallusti e poi ha tentato di entrare in Parlamento avete capito come funziona nella Republic of Bananas dell'Italia? che quando combina qualcosa a qualcuno di sinistra ma vabbè dai su, lascia perdere dai in fondo sono solo persone che combattono contro i cattivi che governano contro il male e il bene contro il male e quando il bene combatte contro il mare ma il male tutti i mezzi diventano leciti secondo la loro visione di democrazia arrivederci a tutti e grazie